Ti chiedo la parola perché stavate parlando, stiamo parlando di Luca Maggiani che è il guardaline incriminato, beh ha parlato, ha rilasciato delle dichiarazioni e allora non ha voluto tornare, non ha voluto tornare sul perché della sua decisione poi ritrattata perché dice Maggiani laia mi ha proibito di parlare in merito a questa questione, però ha voluto dire una cosa, allora vi leggo il virgolettato, Maggiani dice sono sereno, molto sereno, del resto può capitare di sbagliare e capiterà ancora, queste sono le dichiarazioni. Non pagherà, doveva precisare, non pagheremo mai, nessuno pagherà. Io mi chiedo perché il signor Ristoli non ha dato un suggerimento al signor Maggiani in occasione del gol di Berlino, quando invece prima l'aveva fatto. Dopo quello che ha fatto in giro e sull'urgenza della matore in campo ha preso una presa decisa posizione, il direttore del TGG.